Ciao ragazzi, benvenuti all'how to play di oggi, è un riff in slap in stile Louise Johnson. E' molto importante secondo me la trascrittura di questo pezzo, infatti io quando ho letto le trascrizioni del video metodo di Louise Johnson non ci ho capito quasi una mazza perché secondo me erano trascritte in modo non leggibile, in maniera semplice. Infatti per acquisire la sua tecnica io ho studiato direttamente sui suoi pezzi e poi ho cercato di trascriverli in un modo leggibile. Questo è uno stile più o meno come lo utilizzava lui, chiaramente lui lo faceva dieci volte più veloce e dieci volte più pulito perché era un bassista di valore assoluto. Allora partiamo. Emmeron Re Mi, qua si gioca tanto sulle note morte. Re Mi, morta Re Mi, tutto col tambe. E conclude la prima battuta. Quindi con altre due note morte e il Re strappato. E' sempre intervallato da due note morte. Re Do. Pull off strappato Mi Re. Allora la seconda battuta. Morta, morta. Do. Quindi rispondiamo a Re perché prima c'era. E' sempre intervallato da due note morte. Re Do. Pull off strappato Mi Re. Tasto 9, tasto 7. Il problema è che non sono in battere queste cose. Sono tutte comunque spostate. Quindi dovete fare attenzione a stare bene poi sul beat. Riparte. Quindi la seconda parte. Riparte sempre Re Mi con l'Emmer. Re Mi, morta Re. E qua c'è una pausa. Dopo due morte Re. Pausa. Morta Do. E poi conclude con questa cosa qua. Fa Fa Re. Io adesso l'ho fatto. Il primo Fa strappato. Il secondo con un tambe. E il Re con il tambe. Potete anche farli tre tambe. Forse nel mio metodo è indicato con tre tambe se non sbaglio. Però mi piace un po' di più. Da un colore diverso con il primo strappato. Un po' in stile Marcus Miller. Ve lo rifaccio tutto lento. Attenzione. Riparte. Benissimo. Buon divertimento. Mi raccomando. Provatelo. Provatelo con il click e il metronomo. Ci vediamo al prossimo. Ciao. Buona musica. Carlo. Ciao.